...invece è la seguente. Una cosa molto bella che è capitato, anzi di leggere, anche parlando con altri interpreti della saga, è questa sorta di atmosfera da stock company, da compagnia teatrale che avete vissuto per tutti questi anni assieme in Nuova Zelanda. Ecco, vorrei che ci restituisse un po' di quel clima, della bellezza di quel lavorare assieme. Grazie. Sì, abbiamo fatto 6 filmi per, credo, 10 o 12 anni. Sì, eravamo in una compagnia, era una famiglia, una felicità. Sì, eravamo in un po' di questo. Sì, eravamo in un po' di questo. e eravamo in un po' di questi due paesi per dare gay le direttitude di marire. E' molto orgoglioso che un anno Gandalf è stato a postage stampa. C'è un po' di stagione per quanto riguarda il mondo, molto, quindi è stato un po' come vivere in vacanza, ma vivere con gli amici.